Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bene ragazzi e mi carassi siamo tornati con un nuovo episodio del ROTUTTIVIGIONE Vabbè non è forte sta squadra dai I CARDI THE VIEW No è vero A parte Dodò che secondo me è buggato lo stesso Ma qui c'è tutta l'Inter Certo come hai visto No 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 perchè mi devo prendere l'anno 1 a 1 Sì la partita non comincia Interista come me C'è danno a malà Passa intera malà Non c'è senso con gioca ultimettine Fai infinita Che dura una vita Passa intera malà Vivi la Ah ricordiamo che non dobbiamo faccazzate perché E' intrasperta anche città Però visto che cazzo i travezzi ho preso Non dobbiamo faccazzate perché Rega se non iniziamo sta partita Stiamo facciamo un'altra stagione in divisione 7 Quindi c'è un po' lo che cazzo anche noi Non basta cosa cazzo Ma si Ma fa mozza Io ho appena visto una traversa quindi non odia a me Ti ho visto male Va bene comunque Dai che comunque Che non sei tu E' un po' di 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 tu D'altro 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 Mamma mia E' un po' di tu Oddio Sta solo in porta Ma che cazzi ti ha fatto Ma ti hai flesciato pure dei che la con la tua Sì dai come no C'è stata una prospettiva Allucinante 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 in mezzo di nuovo ma dietro costa il cazzo erano chiave l'anno scorso cazzo papaglia notte barro uno secondo la notte di testa ma non è vero e' un po' anche non è per lui ieri gervinio non è come una roma monica maicon la palla per lui mandala malissimo però aspetta che non sarà partito una volta molto lontana guarda la dubbiamo oddio oddio vulc musa ma mi spieghi perchè era vulc però comunque no era musa perchè cazzo ha tirato sul secondo palo passala perchè pensavo di segnare sotto le gambe come ho fatto l'altra volta non fa mai la passa mai la ma non è che cazzo scusa stai al centro dell'aria mochetto passata non era un attimo meglio no da fuori tiravo da fuori ahi c'erano io da fuori a sto punto c'erano la io non si era puoi largo eeeh si è buono è buono è buono è perfetta è perfetta è perfetta musa 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 ma che cosa è successo ma no cioè comunque mi spieghi perchè la guardano l'altri si allargano fanno sempre colle e noi no non lo so però cazzo non era per te fatti i ragazzi tu arnanes musa musa no si allarga musa musa guarda che culo eh vabbè uno sballo mi piace no 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 questo c'è un culo sempre diventa oh bono ipnotizzato si ipnomando te no 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 aspetta aspetta c'è quello musa bravo c'è sta dubbiata guarda dubbiata dubbiata vai valla troppo lo so è solo così la potuta se tu non vieni un po' più verso di me solo così la posso da dai 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 ma che ma vaffanculo alves porco tu c'è piada banana oh non è possibile non è possibile consigliare mai quando per domanda domanda ma che fosse cazzare ma non è possibile eh 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 ma come devo fare insegnà oh DAIE 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 vabbè vabbè c'è il calcio è stato un po' confeggato è stato un bello dai 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 mi hai messo in giallo ahahah 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 ma è pure volere eh dai 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 non fa cazzare tira tira no non è quello l'acqua è stato troppo di filo ma che c'è stato caricato ah cavalli mamma no raga fermi tutti battiti ti prego se non mi fai fatto troppo è stato un miracolo raga fermi tutti non ho mai risultato così tanto per far'azione porco due dunia Musa Quello che è Segna Metti il ritone Mamma mia Mamma mia Come è cambiato il mio Edovina che tira No 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 vado a fare Tanto dirò che è appunto Hernanes Destra Tutto cazzo Non muo di guarda Mi puro centrale Basta che si Adesso Adesso Via 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 Sesta divisione E' che fai zitto Come una merda Ciao Si vecchi nagatomo Cambio tattico per l'Inter Perchè si può dire è per l'Inter Aia Finita E' finita E' finita E' finita Sesta divisione E' tanto pure Trocenevo già una volta Vado mio Ulch che applaude Non ha fatto un cazzo Per tutta la divisione Però applaude Tutte Monet Siamo in sesta Mamma mia ragazzi Sesta 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 Un'altra volta Dopo Tre cazzo di Non ti vogliamo fare Maricarco Ci stiamo E ora Andiamo a comprare le linee Esattamente Dagi 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 Noi ci vediamo al prossimo video Domani Con la nuova divisione Gai Gai Bella Bella Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo